ciao sto preparando una serie di video ben organizzati e finalizzati ad acquisire le principali tecniche di calcolo si parte dal calcolo numerico per passare a quello letterale quindi i radicali e varie tipologie di equazioni e disequazioni puoi trovare il link alla playlist in descrizione del video o nei commenti questo è il secondo video con espressioni con numeri relativi e potenze relative proprietà e vediamo un caso che crea particolari difficoltà cioè quando le basi hanno lo stesso modulo ma segno opposto ad esempio qua abbiamo meno 5 alla terza e qua abbiamo più 5 alla quarta ora la domanda è possiamo applicare le proprietà delle potenze in questo caso perché per applicarle dovremmo avere la stessa base e le basi possono considerarsi uguali se una è positiva e l'altra è negativa per trattare correttamente queste espressioni dobbiamo avere ben chiara la differenza tra potenze con esponente pari e potenze con esponente dispari quando si tratta di numeri negativi consideriamo ad esempio il caso di meno 5 alla seconda l'esponente 2 che è un numero pari fare meno 5 alla seconda significa moltiplicare meno 5 col meno 5 e meno per meno fa più e quindi il risultato è più 5 alla seconda cioè 25 in altre parole il segno meno quando l'esponente è pari può essere del tutto ignorato è come se non ci fosse quindi meno 5 alla seconda è uguale a 5 alla seconda e vale la stessa cosa per qualunque numero pari meno 5 alla quarta 4 numero pari e quindi uguale a più 5 alla quarta perché nei prodotti ogni volta che c'è un segno meno il segno cambia e quindi se cambia un numero pari di volte alla fine torna a essere positivo le cose sono molto diverse invece quando l'esponente dispari se calcoliamo meno 5 alla terza facciamo meno 5 per meno 5 per meno 5 e se ci sono tre segni meno il segno finale meno il segno finale meno perché meno per meno fa più e poi più per meno fa di nuovo meno quindi meno 5 alla terza equivale a meno 5 alla terza cioè il segno meno può essere estratto dalla parentesi per cui se ora prendiamo l'espressione iniziale e abbiamo meno 5 elevato alla terza questo può essere trattato come meno 5 alla terza cioè meno 5 alla terza un numero negativo vedete è la stessa cosa che ho scritto qua in alto invece qui abbiamo meno 5 all'ottava 8 è pari e quindi questo segno meno lo possiamo eliminare e diventerà 5 all'ottava stessa cosa qui questo meno 5 alla seconda questo segno meno è come se non ci fosse ed è uguale a 5 alla seconda inoltre se guardiamo questa seconda parentesi quadra l'esponente è 4 e quindi anche questo segno meno è come se non ci fosse e diventa tutto 5 all'ottava alla quarta spero che questi concetti siano chiari ho fatto un po di pulizia e possiamo riprendere la nostra espressione da qui qui abbiamo meno 5 alla terza per 5 alla quarta quindi adesso le basi non sono più diverse come erano all'inizio che avevamo meno 5 e 5 ma abbiamo entrambi i numeri in base più 5 perché il meno è stato estratto cioè il meno è a parte quindi possiamo applicare le proprietà delle potenze 5 alla terza per 5 alla quarta fa 5 alla settima perché si sommano gli esponenti 3 più 4 fa 7 quindi proseguiamo il tutto elevato alla quinta diviso meno 5 all'ottava alla quarta per quanto detto prima questo meno è come se non ci fosse quindi sottoscrivo 5 all'ottava e il tutto diviso 5 alla seconda ora questo esponente è dispari quindi questo segno meno rimane come tale e lo scrivo qua e applico le proprietà delle potenze e moltiplico gli esponenti 7 per 5 fa 35 diviso 5 all'ottava alla quarta moltiplico gli esponenti e 8 per 4 fa 32 diviso 5 alla seconda tutte le potenze hanno la stessa base perché questo meno non riguarda la potenza ma è a parte e dato che c'è la stessa base ci sono delle divisioni sottraggo gli esponenti quindi rimane 5 elevato a 35 meno 32 meno 2 che fa 1 quindi il risultato è meno 5 alla prima o più semplicemente meno 5 nell'esercizio successivo ti propongo un'espressione dove le basi oltre ad avere segno opposto devono anche essere ridotte a una base comune se vuoi vederlo puoi cliccare sul riquadro sulla destra grazie a tutti